benvenuti alla prima puntata del 3 show il primo talk show riciclabile al cento per cento oggi con noi abbiamo stefano silvestri regista teatrale ma anche cinema e televisione del quartiere sceneggiatura devo dire abbiamo quindi splendido sessantenne 59 no no se poi si rifà 59 59 no c'era c'era scritto 60 però non mi dire 60 anni e 59 ok ok stefano io parto subito con le domande se sei d'accordo e ti chiedo per insomma rompere un po il ghiaccio se tu fossi un rifiuto differenziabile che cosa saresti cos'è diciamo che ti identifica secondo se di più come rifiuto una lattina e credo una lattina perché mi piace il fatto che c'è che insomma la gente possa usufruire di me in dovunque cioè al mare in montagna per strada camminando a letto a letto e insomma ecco questo anche che un po la gente mi beva ecco quello sì quindi diciamo questo può avere anche un po a che fare col mestiere che fai quindi questa cosa di lavorare sul teatro sui testi quindi prendere un po dappertutto diciamo la lattina rappresenta anche questa sua onniscienza diciamo onniscienza a quest'ora di mattina non è male e allora no devo dire anche mi piace il fatto che se proprio devo dirlo il fatto che comunque la lattina innanzitutto è una scelta no tu scegli di bere quello no e quindi la gente che viene a vedere un mio lavoro sceglie di e poi anche il fatto di non lo so ti bevi un bevi un qualcosa che ti piace ti crea un senso di benessere anche un emozione se vuoi no ed è quella che qualunque autore rincorre qualunque regista il fatto che comunque ma sì ma poi anche che lasci un retro gusto se proprio dobbiamo dirlo no ecco io credo aver dato una risposta straordinaria risposta meravigliosa lattina tra l'altro che ricordiamo per chi ci sta guardando che di alluminio va negli imballaggi e la lattina tra l'altro può avere numerevoli storie meravigliose dopo il suo riciclo la prossima domanda andiamo un po più sul sul tecnico diciamo concediamoci questa cosa faccio una domanda anche simpatica in una vita futura ok in una situazione di di karma di nirvana tu come ti vedi trasformato un altro oggetto un altro materiale cosa ti piacerebbe essere in un'altra vita una supposta lo spiego nel senso che visto che poi anche il momento che stiamo attraversando non quello della pandemia dove noi qualcuno si illudeva che dopo la pandemia insomma in qualche modo sarebbe stata una rivoluzione copernicana non nelle coscienze dell'uomo dell'uomo io su questa cosa un po dubito io credo che chi abbia colto l'aspetto buono no del della pandemia era in incubazione già prima e che era un po così un po stronzetto lo era prima lo sarà anche dopo e la supposta in virtù è anche provocatorio perché visto che in tali casi qualcuno non ci arriva per vie dirette no magari a riflettere su delle cose a livello di testa magari la butto lì potrebbe essere trovare un nuovo canale per fare in modo che certe cose possono arrivare è un'opzione è un'ipotesi rivoluzionaria ovviamente è un'ipotesi sicuramente valida allora in virtù di questo poi io ti chiedo secondo te la supposta che poi sappiamo essere un medicinale che quindi va riportato in farmacia come tu ben sai il medicinale è scaduto queste cose si conferiscono in farmacia io ti chiedo secondo te esiste un inferno un purgatorio un paradiso dantesco dei rifiuti e ti chiedo dove dove andrebbe a finire questa tua reincarnazione in una supposta in questa ipotesi la domanda è molto affascinante nel senso ma io è sicuramente una supposta in farmacia e credo che sia l'inferno che il purgatorio il paradiso dovrebbero o comunque mi auguro che siano dotati di farmacie dove possono arrivare le varie poi è capito anche la supposta l'inferno il purgatorio il paradiso di ora poi a parte che il programma si intitola trash show per cui credo di essere però dipende anche la supposta c'è chi è inferno purgato chi ne ha gradito perché se attila allora lo manderei all'inferno che dice allora dipende einstein allora andiamo cioè dipende un po anche per cui credo quindi quello che volevi dire che il destino di una supposta non è definito una supposta una sua vita ai suoi valori a un suo percorso va bene signori trash show ok allora io ora faccio una domanda che la vorrei fare doppia la vorrei fare a stefano in quanto lattina come ci hai detto prima e poi a stefano in quanto uomo prima di tutto allora stefano in quanto lattina se tu vedi un disastro ambientale come reagisci se se tu fossi una lattina come ti sentiresti ad essere per esempio buttato in terra calpestato trattato male come ti sentiresti in quanto lattina beh mi sentirei cioè non mi sentirei non insomma che un atteggiamento non nobile insomma devo dire e ora al di là di tutto credo che è bello l'inizio è bello anche una fine degna no quindi una lattina in terra specialmente una lattina e comunque ti ha fatto stare bene che tu hai scelto no non credo che sia una bella fine e invece per quanto riguarda l'uomo io trovo veramente insopportabile entro in un caso assistito ma come voi tutti no anche a qualcuno che addirittura in autostrada ma non solo vabbè in scooter o in macchina nell'urbano continuamente gente che prende fuma e butta ma addirittura anche in autostrada veramente situazioni dove proprio il posacenere veniva la trovo veramente una cosa sgradevole in qualche occasione mi è capitato addirittura una volta mi ricordo in a fire in scooter che ho raccattato la cicca glielo resa oltre a un vuoto di senso civico che poi tutto quello che riguarda anche la raccolta differenziata che si un senso civico ma ricordiamo poi anche un obbligo di legge quindi tu credi che poi ci sia anche un problema molto di egoismo a quanto ho capito beh sì è proprio un discorso civico insomma dobbiamo recuperarlo io non credo che sia possibile recuperarlo e affidandosi solo alla coscienza delle persone per cui in talunni casi signori mannaggia e proviamo proviamo anche in questi casi ad avere delle situazioni anche più estreme insomma nel senso il posacenere no e se ti becco ora non io non ne ho il potere però molte serie perché insomma questo senso civico va recuperato assolutamente io sono d'accordo sono d'accordo con stefano infatti dico proviamoci perché e poi mi collego anche alla domanda dopo quello che è probabilmente un piccolo sforzo per ognuno di noi non volendo scomodare i grandi però può essere veramente un grande aiuto alla collettività e quindi io arrivo a farti quest'ultima domanda poi ci lasciamo anche qui citando veramente i grandi personaggi ti sei mai chiesto cosa puoi fare tu per l'ambiente o preferisci che l'ambiente faccia qualcosa per te io ti ringrazio di aver citato questa cosa che io scrissi e che in america quando in realtà in quel caso io declinai questa cosa dicendo non chiederti che cosa l'america può fare per te ma che cosa e tu puoi fare per l'america non è veramente cosimo non sono il tipo apri chiudo parentesi non è una polemica e rispetto a john fils gerald kennedy che ho portato in tribunale perché mi rubò questa cosa detto questo no vabbè sei tu che devi preoccuparti dell'ambiente e non il fatto che l'ambiente possa preoccuparsi di te ma qui ci leghiamo al discorso di prima no che bisogna veramente che qualcosa cambi io non ho molta fiducia nell'uomo e per cui in alcuni uomini e per cui credo che vadano questa cosa vada incentivata il senso civico il fatto di rispettare l'ambiente e anche il clima e che anche i governi si diano realmente una mossa seria rispetto a questo però forse biden l'ha detto che lui forse si occupa visto che stiamo parlando dell'america poi vediamo nei fatti allora ti faccio un'ultimissima domanda estemporanea che non era prevista ma mi è venuta in mente perché poi mi è stato chiesto anche tantissime volte in tante altre occasioni tu come lo vedi che a che punto pensi che siamo nel nostro rapporto con l'ambiente credi che insomma negli ultimi 59 anni abbiamo detto negli ultimi 59 anni l'interesse verso l'ambiente si è migliorato tanto poco si sta facendo tanto poco un po me l'hai già detto però vorrei proprio chiudere con questa cosa sai cos'è che uno da una parte potrebbe dire che c'è una maggiore sensibilizzazione delle masse però poi insomma vai a capire innanzitutto non so risponderti esattamente anche perché uno poteva dire che prima ai primi dell'ottocento quando sono nato io in effetti magari c'era un'attività industriale minore c'era anche una rincorsa da parte dei vari governi minore se guardiamo ad esempio tutto quello che è accaduto in cina e come ben sai no dove in tal un caso e nemmeno vedi a un metro da te però è anche vero che tu vai a dirglielo ai cinesi e agli indiani che poi ti rispondono ma tu europa tu america viene adesso a fare le ramanzine a me per cui diventa una situazione difficile in realtà così non lo so posso dirti che prima si stava meglio ma si stava meglio perché la coscienza era diversa o perché in realtà non c'era questa esasperazione industriale non solo ora ora rispetto a prima forse c'è una maggiore sensibilizzazione sì ok ma la greta di turno personaggio straordinario però ma in realtà al di là di tutto ma quanto viene ascoltata da chi veramente può cambiare il mondo non lo so se fanno io ti ringrazio per questa intervista veramente attuale e sincera devo dire e anche sexy ti lascio saluto chi ci segue va bene io vi ringrazio della vostra attenzione e tutti insieme magari proviamo a insomma darci una mossa ti ringrazio stefano io sono cosimo questa era la prima puntata del 3 show grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti